Ciao a tutti, sono Zio Potter, lo zio segreto di Harry Potter e vi aspetto tutti domenica 11 novembre alle ore 16.30 presso il centro commerciale delle Beturne di Solviatelona, perché cosa? Ma per lo spettacolo di magia, Zio Potter, Magic Show! E guardate cosa porto con me, porto sempre con me la mia borsa per fare la spesa. Ma ragazzi, perché al centro commerciale delle Beturne si fa una spesa fantastica, ricca anche di sorprese. E quando vado a fare la spesa, io porto sempre con me qualcosa di incredibile, qualche bella sorpresa. E in questo caso io ho il mio bellissimo acquario. Guarda, è un bel pisciolino. Mi raccomando, venite, perché queste magie bisogna vederle tutte dal vivo. Ciao, ciao da Zio Potter!